Un vigliacco non so, e dunque addio. Credo che mi conoscete male. No, ragazzo, in questo modo non riparate le offese che mi avete fatto. Mano alla spada e in guardia. Conto fino a tre e ti spacco la faccia. Ehi, aspettate un momento, stop, fermatevi. Quel ti spacco la faccia, non c'è scritto nel testo. Solo ho aggiustato un po' con la battuta. Non è possibile cambiare le battute, Enk? Ma così è molto meglio, non solo, è più drammatica. Signor Pei. Signor Pei. Salve Lorenzo Ciao Sally Tanti auguri per San Valentino Che ci fa qui? Aspetto la diligenza C'è della merce per me Ma perché qui? Voglio che nessuno in città mi veda E una sorpresa per Dorothy Anche se più ci penso E più vorrei salire su quella diligenza E andarmene lontano da qui Non in Bolivia spero Qualunque posto è meglio di questo Non sopporto l'idea di passare un altro giorno in città Con lei Con lei che mi ignora come sta facendo A volte non è facile capire le donne Hai proprio ragione Per quanto tu faccia non è mai abbastanza Eppure continua a farlo E sa perché Sì lo so Perché sono rimambito Ecco perché E' innamorato Oh ma vorrei non esserlo Ma mia vita sarebbe più facile Ci pensi bene Loren Pensi a quando Dorothy subì l'operazione Pensi a come si sentì allora Starebbe così se prendesse quella diligenza E tu cosa ci fai qui? Il dottor Micah ha detto che eri a Denver per una conferenza E' vero Ma sono ritornato prima Perché? Perché sono rimambito Vai E' vero E' vero E' vero E' vero Grazie a tutti.